Sbarco da record al porto di Pozzallo, sulla banchina portuale Bleon, una sola giornata, prodati 1.532 migranti. Lunghe e difficili le operazioni di controllo e smistamento. L'unità del mondo agricolo la ricetta per vendere il latte in altre regioni d'Italia, col diretto in bocca alla sinergia di produttori e cooperative per giocare la carta dell'esportazione. San Giuseppe, Santa Croce e Camerina si prepara a festeggiare il suo patriarca. Fede, devozione e impegno, i segreti del successo di una celebrazione popolare che è anche trionfo della solidarietà. La giornata di mercoledì 19 marzo 2014 sarà ricordata come una delle più difficili per la storia dell'accoglienza di migranti da parte della provincia di Ragusa. È stato un giorno frenetico e convulso sin dalle prime ore della mattina, quando si sapeva che dovevano arrivare oltre mille migranti. In realtà, poi sono sbarcati al porto di Pozzallo ben 1.532. Dal momento in cui hanno cominciato ad approdare le navi militari con il loro carico umano, Laura e Portuale, sembrava un campo profigo in una zona di guerra. L'arrivo record di uomini, donne e bambini, molti dei quali siriani scampati alla guerra, ha messo a dura prova i protagonisti istituzionali, delle forze dell'ordine, degli enti sanitari, delle organizzazioni no profit e delle associazioni di volontariato. Sino all'alba di oggi sono proseguite le operazioni di smistamento e distribuzione dei migranti. In 400 sono stati sistemati a Pozzallo, tra il centro di primo soccorso, la perestra comunale e la tendopoli allestita nella banchina portuale. Adesso dunque la città è stracolma e non può più accogliere altri ospiti, sino a quando quelli che attualmente sono presenti non verranno destinate verso altre mete. Alcuni migranti sono stati dirottati a Comiso. C'erano 14 autobus operativi pronti a trasportare i cittadini stranieri nei luoghi deputati ed accoglierli. La tendopoli ha svolto anche la funzione di locale destinata ai controlli sanitari, ma mentre si svolgevano le operazioni di controllo e smistamento, circa 130 migranti sono fuggiti. Alcuni sono stati ripresi dalle forze dell'ordine. Per due di loro è scattato il fermo, in quanto gli inquirenti li ritengono possibili scafisti di questo mega sbarco. Ben quattro donne sono state ricoverate in ospedale per ipotermia, sei soggetti sono stati destinati all'ospedale maggiore ed uno al Guzzardi di Vittoria per problemi alla spina dorsale. Unità del mondo agricolo ragusano con l'esigenza di reperire i futuri acquirenti del latte anche fuori dai confini regionali. La regione dovrebbe legiferare per tutelare i prodotti d'eccellenza nelle menze e negli ospedali. La proposta è della Col Diretti col direttore Pietro Greco che all'indomani del vertice con l'assessore regionale all'agricoltura Dario Quartabellotta lancia una proposta dirompente. Si deve avere il coraggio di guardare oltre e di mettere in concorrenza gli industriali del latte, spiega Greco, di vendere il prodotto, dove necessario, anche fuori dai confini della regione. La mia esperienza in Sardegna mi induce a fare una riflessione ad alta voce. La regione potrebbe intervenire per sostenere le spese del trasporto del latte. L'invito è rivolto ai produttori e alle cooperative a uscire fuori gli scheleti dagli armadi, aggiunge il direttore della Col Diretti, a lavorare tutti insieme per l'unità del mondo agricolo. Sembra davvero strano che non ci sia unità di intenti per tutelare i veri protagonisti della filiera. La Sicilia adesso dovrà adeguare il prezzo del latte agli accordi sottoscritti in Lombardia, pari a 44,5 centesimi al litro, con validità fino al prossimo 30 giugno. Un aumento netto di 4 centesimi rispetto al prezzo in un vero e proprio mercato libero praticato in Sicilia tra le cooperative, le industrie e i produttori. Venerdì 21 marzo, così come disposto dal responsabile unico del procedimento lunedì scorso, si terrà la seduta pubblica per l'aggiudicazione provvisoria, alla presenza delle sette dite partecipanti, dell'appalto che riguarda l'inizio dei lavori per il completamento del tratto autostradale Rosolini-Modica. La Commissione Ministeriale, valutata le conclusioni della subcommissione che ha verificato la congruità dell'offerta anomala, procederà alla giudicazione alla COSEIDIL e alla Società Italiana per la Condotta dell'Acqua. I segretari di CGL, Will e CISL di Siracusa, in occasione dell'incontro che avevano avuto con il prefetto di Siracusa, avevano chiesto grande celerità, soprattutto per dare risposte e certezze al futuro dei lavoratori, ma anche naturalmente per le attese che riguardano questo appalto e questa importante infrastruttura. Si ritiene dunque che entro la prossima settimana eserverà l'aggiudicazione definitiva e quindi un calendario certo per l'inizio dei lavori. Quest'opera unisce le economie e il futuro di due province, Siracusa e Ragusa, e soprattutto il futuro di settori importanti, quali l'industria, il turismo, l'agricoltura e il commercio. Un grande belvedere sul mare di Montalbano, uno spazio fruibile alla collettività, con una bambinopole e un'aria attrezzata per gli anziani, una corsa contro il tempo per acquisire tutti i pareri necessari, incluso il nulla ossa del demanio della soprintendenza e beni culturali, per demolire l'ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Secca e restituire alla pubblica fruizione quell'aria. Un milione di euro l'impegno di spese in bilancio, somme stanziate nel piano triennale delle opere pubbliche. L'ufficio tecnico con il dirigente Mariangela Mormina ha elaborato un fitto carteggio da sottoporre all'attenzione degli enti preposti. Io ritengo e sto facendo anche delle valutazioni tecniche che possono anche costituire pericolo all'incolumità e quindi valuteremo a livello strutturale le condizioni di degrado in cui attualmente si trova questa ex caserma, della quale a mio avviso non c'è niente di storico considerando il decorso del tempo e lo stato di conservazione della struttura. E' considerato che quello c'è sotto il profilo ambientale. E' un angolo particolare perché si viene a determinare un triangolo fra due poli principali che sono Piazza Torre e Piazza Faro. All'interno di questo triangolo spunta questa caserma su un porticciolo che qualunque cosa si andrebbe a fare su quel porticciolo costituirebbe a mio avviso non soltanto un forte impatto ambientale ma verrebbe a privare il borgo di Punta Secca di una importante risorsa turistica che è praticamente anche il lungomare e la passeggiata che è possibile creare nel momento in cui tutti questi ruderi saranno messe via. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati con l'amministrazione della quale esiste già un progetto definitivo presentato all'Arta. Quindi la demolizione innanzitutto? Innanzitutto la demolizione perché al di là del fatto urbanistico e d'impatto che può costituire l'immagine, e noi possiamo immaginare lì di costruire una qualunque cosa ma che verrebbe chiaramente a deturpare quell'ingrocio e liberare visivamente la passeggiata che si viene a determinare da Montalbano a Punta Secca. E in ogni caso ristrutturare un fabbricato di quella mole, di quella dimensione, vista le condizioni in cui si trova, non si può più parlare di ristrutturazione ma ci vorrebbe un adeguamento sismico massiccio. Fare una cosa del genere chiaramente sarebbe anche oltremodo costosa e metterebbe suppongo in ginocchio qualunque amministrazione volesse intraprendere questo tipo di iniziativa. Per fede e devozione al Patriarca, con l'obiettivo di donare parte dei gene alimentari iniziando dal pane di San Giuseppe alle famiglie bisognose di Santa Croce, ci si prepara al meglio, come ogni anno, all'appuntamento più importante per la comunità di Santa Croce. Sicuramente le cene rappresentano ancora oggi un collante profondo per tutta la comunità camarinense, non soltanto per quelli che viviamo a Santa Croce ma anche per chi è lontano. Io ho avuto modo di controllare su internet, di vedere che anche in America e in altri posti ripropongono questa festa nostra tradizionale, quindi per significare quanto è profondo il legame con la propria terra e le proprie tradizioni. Come l'anno scorso, quest'anno riproporremo la nostra tradizionale festa, però sempre in chiave di sviluppo economico, che è quello che oggi preme più di ogni altra cosa alla nostra comunità. Faremo degli standi centrali, daremo l'opportunità ai nostri artigiani, alle nostre attività di poter proporre i loro prodotti, di poter produrre i loro, come dire, manufatti, e perché no, di gustare anche il nostro pane tipico, che fa parte dei beni immateriali della Regione Sicilia. Le nostre specialità possono diventare il volano per uno sviluppo che tenga conto anche del turismo e anche i prodotti della terra con il nostro marchio che stiamo portando avanti. Quindi tutto quello che c'è di buono, di autentico, di genuino, che può offrire Santa Croce, noi lo offriamo ampliando i confini del nostro paese. Cosa vuol dire per lei partecipare alla festa di San Giuseppe e soprattutto visitare le cene? Per me vuol dire intanto essere vicino ai miei concittadini, di cui faccio da sempre parte integrante, perché sono nata e vissuta sempre a Santa Croce, condividerne le preoccupazioni e anche il senso di solidarietà che viene fuori con grande generosità anche in questa occasione. Undici squadre con alcuni giocatori che militano nei campionati regionali di calcio a 5. E' la prima edizione del campionato invernale Auracaria che si sta svolgendo nella struttura sportiva adiacente alla borgata di Punta Secca. Sì, devo dire che abbiamo avuto come primo anno un grandissimo affollamento di persone, non ci rispettavamo tutte queste iscrizioni, 11 squadre, 150 tesserati, perché tutti sono assicurati tramite assicurazione Endas. E' stato un buon successo come primo anno. Ci si prepara alla seconda edizione, sicuramente ci saranno tante novità. Sì, allora per questa stagione la prima e la seconda classificata andranno a Malta, avranno un soggiorno rispettivamente di 4 e 3 giorni. Nella seconda edizione stiamo pensando di portarli un po' più lontano ad Amsterdam, in Olanda. Ora a maggio ce ne sarà uno che sarà molto più breve, che durerà circa un mesetto, con una destinazione in un veliero nel porto di Palermo. Sì, è un ottimo evento organizzato da qualche anno a questa parte, quest'anno è molto più completo e più entusiasmante, perché il primo posto è un viaggio a Malta. Siamo primi in classifica, speriamo di continuare così, manca poco. Sì, ho visto la partecipazione di molte squadre di Santa Croce, questa è una bella iniziativa, conosco il responsabile del torneo. Come torneo, livello di competitività del torneo, niente da dire, buon livello, penso sia un'ottima iniziativa. Nel futuro ci saranno ottimi, si va sempre a migliorare, e quindi ho saputo che ci saranno altri tornei, sempre a migliorare, non che questo sia scadente, però uno giustamente si migliora.